A distanza di più di 13 anni Siracusa e Nissa torneranno ad affrontarsi seppure in una gara amichevole per preparare i rispettivi debuti ufficiali in Coppa Italia contro Real Belvedere e Gela. La partita tra Retusei e Nisseni è prevista sabato 20 agosto allo stadio Nicola De Simone di Siracusa. E quanto si legge sulla pagina Facebook della Nissa, le partite tra Siracusa e Nissa sono state sempre caratterizzate da un'accesa rivalità tra le due tifoserie. I primi screzi nella stagione 1984-85, quando le due squadre militavano in Serie C2. Un anno dopo, nella prima trasferta della stagione proprio al De Simone, risultato finale 0-0, i pullman dei giocatori e dei tifosi nisseni furono scortati dalla polizia fino alla periferia della città. Ma durante il tragitto si registrò un violento lancio di sassi all'indirizzo dei due mezzi da parte di gruppi di facinorosi, fortunatamente senza gravi conseguenze. Quelli che vedete in questa foto sono gli ultra della Nissa nella curva dello stadio Retuseo. Era il 19 ottobre 1986 e la partita era pure in schedina. Tempestoso anche l'incontro di ritorno, finito 1-1 al Palmintelli con l'arbitro sotto scorta. Anche quella partita era nella schedina a totocalcio, nella stessa domenica in cui si giocavano Milan-Juventus, Roma-Inter e Torino-Napoli. Ancora momenti di tensione nel campionato di eccellenza edizione 2001-2002 a Pian del Lago. Nissa-Siracusa 2-3, Tafferugli a fine gara e quattro agenti feriti. Gli ultimi precedenti tra le due compagini sotto la presidenza biancoscudata di Luca Mannino. Pubblico delle grandi occasioni al Tomaselli, 4-1 per la Nissa all'andata nel dicembre 2008. 1-1 al ritorno nell'ultimo precedente datato maggio 2009. 22 i confronti fra Siracusa e Nissa dal 1968 ad oggi, 11 vittorie del Siracusa, 3 della Nissa e 8 pareggi. Altri 7, per un totale di 29, riguardano Siracusa e Nissena dal 1932 al 1943. 4 vittorie del Siracusa, 2 della Nissena e un pareggio. Complessivamente 41 i gol fatti dai siracusani, 27 quelli messi a segno dai nisseni. Prima dell'amichevole di sabato al Desimone, la Nissa proseguirà la preparazione precampionato a Riesi. Doppia seduta tutti i giorni. Giovedì 18 amichevole al Vincenzo Presti con la società calcistica Gela, che parteciperà al prossimo campionato di promozione. Giovedì 18 amichevole al Vincenzo Presti con la società calcistica Gela,